In questi giorni si parla tanto di Elisabetta II, ma se ne parla sempre ormai da 68 anni, perché è da tanto che dura il suo regno. Aveva 25 anni e ne avrebbe fatti 26 un mese dopo, quando morì il padre, che tutti ricordiamo come Giorgio VI. Giorgio VI che ha lasciato un segno anche perché è diventato un pezzo di cinema, lo ricorderete tutti, perché nel discorso del re si parla di questo re, si parla della sua balbuzia, che però non era una balbuzia intellettuale, riguardava solo il suo modo di esprimersi. Si collega con il presente e anche quello che sta accadendo in questi giorni, con la scelta di Harry e Meghan di vivere in modo diverso la loro regalità. Infatti in quei giorni Elisabetta si trova sul trono anche perché poco tempo prima suo zio, Edoardo, aveva scelto, come tutti ormai sanno, di seguire una donna divorziata, Val di Simpson, per cui cambiò la storia dell'Inghilterra, perché lui non poteva fare il re, di conseguenza arrivò sul trono suo fratello e da lì arrivò anche Elisabetta. Al tempo si diceva, intanto provvisoriamente, perché si pensava che comunque il re, sto parlando ancora di quando lei era l'erede, si pensava che il re facesse anche un figlio maschio, invece appunto il re che si chiamava Albert, che poi sceglie invece di chiamarsi in altro modo quando arriva al trono, proseguendo la tradizione di suo padre, ebbene dicevo, si pensava che arrivasse un maschio, il maschio non è arrivato, è arrivata Elisabetta. Elisabetta, già prima che il padre morisse, aveva iniziato a girare il mondo e a rappresentarlo, perché il padre era molto malato e addirittura era in un viaggio lontano in Africa quando le arrivò la notizia, per cui è la prima regina che è diventata tale, essendo addirittura lontana da Londra. Il suo regno sembra davvero non avere confini, è riuscita comunque a traghettare una monarchia complicata in un'Inghilterra che oggi si avvia verso la Brexit, ma che ha vissuto stagioni complicatissime. Del resto Churchill, che non era proprio un passante, già a due anni aveva detto questa è una donna tosto, una ragazzina che sa bene cosa vuole dalla vita e lo sta dimostrando di giorno in giorno, governando un'Inghilterra e anche tenendo a bada i vari premier che si sono succeduti, mentre lei sulla corona resta ferma.